Un buongiorno da SOS Casa, il nostro settimanale di approfondimento sulle questioni condominiali che appunto riguardano la casa. Vicino a noi abbiamo la Naci ogni settimana, in questo caso abbiamo il dottor Vito di Benedetto che ci aiuterà a sostanzialmente indagare quali sono le problematiche più tipiche della casa. Oggi probabilmente, anzi decisamente, si parlerà di eventi naturali, di problematiche, di catastrofi eventualmente, di leggi antincendio e di altre questioni che appunto voi ci riportate molto simpaticamente tutte le settimane mandandoci appunto le vostre email alla redazione sos casa chiocciola adacannel.it Voi continuate a mandare le vostre email, noi vi ringraziamo molto e vi risponderemo certamente. Ecco, ma parliamo subito con il dottor Benedetto a proposito di due eventi insomma sostanzialmente catastrofici che succedono da tempo nel Veneto, voglio dire da quasi da più di un mese, tra terremoti e la tromba d'aria che giusto questa mattina ha colpito Venezia. Insomma, gli abitanti delle case, a casa loro, poi rischiano di non sentirsi più sicuri. Cosa suggeriscono gli amministratori di condominio per risolvere insomma questa incertezza? Certo, beh intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Dal punto di vista catastrofi che ci si augura sempre che non esistono e che non vengano, abbiamo un sistema di protezione che non è altro che l'assicurazione. L'assicurazione però può essere divisa in due parti, una è la parte volontaria e una è la parte obbligatoria. Sappiamo che il terremoto è avvenuto il 20 di maggio con evento catastrofico il 29 se ricordo bene la data. Fatalità casualmente. Il 16 maggio, qualcuno può dire ce la siamo tirata, il governo ha varato un decreto, proprio il 16 maggio, pubblicato direttamente nella gazzetta ufficiale, dove rende necessaria in un qualche modo la copertura assicurativa, lasciandola per quanto riguarda però gli eventi catastrofici ancora volontaria. Come amministratori del condominio noi cerchiamo di far assicurare tutti i condomini in modo, vorrei quasi dire obbligatorio, perché un evento di qualsiasi tipo che dia un danno alla proprietà, un conto è riuscire a suddividerlo e ad avere un risarcimento di pari importo o molto simile al danno economico subito. Ma quando parliamo di eventi catastrofici non bastano più i 100, i 1000 o i 100.000 euro purtroppo in alcuni casi per risistemare i condomini. Essendo che poi voi vivete a contatto con una realtà particolare che è quella del condominio, io mi domando come fate voi a far accettare delle ulteriori assicurazioni, quindi una spesa ulteriore al condomino? A proposito appunto, per carità, di eventi drammatici e devo dire in questo periodo anche piuttosto frequenti, però non necessariamente frequenti nella vita di un palazzo, di un'abitazione o di una persona. Come riuscite? Quali sono le problematiche che nascono tra le prime nella discussione? Certo, allora innanzitutto durante l'assemblea si cerca di avere la delibera e di poter in questo modo poter accendere quella che è la copertura assicurativa. Nel caso specifico del decreto del 16 maggio, la suddivisione è momentanea, cioè è volontaria per i primi 90 giorni e dopo i primi 90 giorni il governo tornerà a discuterne di questa per vedere se vale la pena o meno di renderla addirittura e preferibilmente obbligatoria. In questo caso andiamo sul territorio nazionale sicuramente ad abbattere, almeno per i primi periodi, ci si augura e sia così, i costi iniziali di copertura per una copertura assicurativa che vada a proteggere eventi catastrofici tipo terremoto, alluvioni, inondazioni, esondazioni. Ecco perché il 16 maggio facciamo riferimento ai danni che abbiamo subito oltre un anno fa. Con un po' di velocità il governo è riuscito a varare questo decreto, ma ancora ci sta provando perché la fase transitoria è proprio questa. Un'altra domanda, ma essendo che tutto sommato poi il territorio italiano è sismico, il costo di queste assicurazioni non è che magari è piuttosto elevato, io penso per esempio un'assicurazione che decide di assicurare magari in via obbligatoria gli immobili dell'Aquila. Non so chi lo faccia, non so quale assicurazione lo voglia fare, non so quanto possa costare a un condominio o dei condomini assicurare una palazzina in un'area come quella. Sì, in questo momento abbiamo il famoso discorso volontario, diverso è dall'obbligatorio. Nel momento in cui stiamo ragionando sul volontario interviene qual è il numero delle persone, delle unità abitative che vanno a richiederlo e conseguentemente le varie compagnie assicurative a loro volta proporranno un qualcosa. Oggi come oggi andiamo su una copertura assicurativa che è indicativamente da due a tre volte il valore di una polizza normale. Mi spiego, se in un ambito condominiale spendiamo mediamente mille euro all'anno, ne aggiungeremo altri duemila, tremila a livello di copertura per il terremoto. Questo è abbastanza facile capirlo, un danno veramente forte in un condominio sono centinaia e centinaia di migliaia di euro, quindi ovviamente il danno alle assicurazioni che devono poi pagare deve rientrare in un qualche modo. Poi alle cose, alle persone, alle super lettere? Certamente sì, non vanno ovviamente considerate le persone in quanto fisiche che possono subire dei danni. Quindi oggi chiudendo un attimino così il discorso, cercando di circoscriverlo, è forse prematuro, ma parliamo veramente di giorni, aprire una copertura assicurativa immediata. Perché? Perché ne pagheremmo sicuramente lo scotto dal punto di vista economico. Dal punto di vista assicurativo, se il danno c'è, ovviamente un aiuto ce lo daranno. Fra un po' di giorni, parliamo più o meno a metà agosto, cioè i 90 giorni dal 16 di maggio, se il governo deciderà la obbligatorietà, ecco che questo valore, questa copertura verrà a diminuire. Sono aggiornato a ieri, non più tardi al limite di giovedì e venerdì della settimana scorsa, ma mi risulta che un'unica compagnia in questo momento abbia già buttato velocemente sul mercato una copertura assicurativa dal punto di vista terremoti. Ha un costo ancora abbastanza inaccettabile, robusto, pesante. In periodi in cui siamo, aggiungere ulteriori spese è un qualcosa a cui bisogna stare particolarmente attenti. Io a questo punto inizierei già subito con le domande che i telespettatori ci fanno, in sostanza. Inizierei con il signor Antonio, che abita in una piccola palazzina, dice, sono in quattro, a Marola, in provincia, o Marola, non lo so, in provincia di Vicenza. Marola. Dice, siamo tutti proprietari e ci gestiamo fra noi le questioni condominali. Quest'anno è il mio turno per la gestione del condominio e proprio ieri l'altro, nell'appartamento di A, appuntato, dice, signora anziana, si è sviluppato un piccolo incendio. Io sono pensionato e proprio all'ora di pranzo ho visto il fumo venire su dall'appartamento di sotto, dove evidentemente abitava la signora A, che di più non vogliamo sapere neanche. Sono sceso, ero da solo a casa e ho chiamato la signora A, poi lo dice Alberta. Lei mi ha risposto in preda al panico. È riuscita ad aprirmi e siamo riusciti a spegnere il fuoco divampato in cucina con un estintore che avevo in garage. Non ci sono stati danni gravi al condominio, ma mi sono accorto che se non c'ero io con un estintore che tenevo quasi per caso in garage, le cose sarebbero potute andare peggio. Come devo comportarmi in futuro? Quali sono le normative in merito? Vabbè, un grazie, eccetera. È una domanda abbastanza interessante perché apre un campo piuttosto vasto. Parliamo del decreto 151 che è relativo alla modifica sugli antincendi nel corpo dei vigili del fuoco. Rispondendo anche alla domanda che è stata fatta nella mail, cosa può fare? Allora, dal punto di vista di quello che può fare l'amministratore o comunque le persone che abitano all'interno di questo condominio è sicuramente quello di aprire una polizza condominiale e quindi facendo un'assemblea e deliberandola provvedere a una copertura assicurativa proprio a livello di questo tipo di sinistrosità che può prevedere dalla perdita dell'acqua, il rischio verso terzi, persone che scivolano per le scale a causa di qualche oggetto o comunque qualcosa che può impedire il normale passaggio. Apre anche un altro argomento che oggi come oggi non è previsto e non è nemmeno obbligatorio. Come amministratori incominciamo a pensarci un attimino. Ha fatto un inciso, avevo per caso un estintore e quindi non sapevamo nemmeno se era funzionante un estintore in garage. Vorremmo come amministratori, poi c'è un problema di estetica, poi c'è un problema di obbligatorietà quindi di delibere assembleare, c'è un problema di costi relativi, poi ne parliamo indicativamente però avere un estintore tra mezzi del vanno scala, quindi 5 piani, 5 estintori stiamo parlando di un costo iniziale che potrà essere 150-200 euro Per ogni estintore? No, no, complessivo, quindi parliamo di costi indicativamente di questo genere Ed è che è obbligatorio averli? No, non è obbligatorio averli a meno che non rientriamo in alcuni particolari poi li vediamo sul 151 che è proprio una cosa nuovissima Agosto 2011, perdono, ottobre 2011 entrerà in vigore definitivo con chiusura di responsabilità da ottobre del 2012 quindi l'estintore ha questo, ha un particolare che ogni 6 mesi deve essere verificato da un'azienda che ne certifichi la corretta funzionalità perché niente di peggio è avere un qualcosa che dovrebbe servirci a salvare o comunque a proteggerci da un qualcosa nel momento del bisogno che non funzioni Posso chiedere un'altra cosa a proposito di estintori? Io so che non tutti gli estintori sono uguali No, assolutamente Anche questa è una questione, so che per esempio ce ne sono alcuni che su un quadro elettrico per esempio possono fare più danni che quelli che risolvono in sostanza Anche questo potrebbe essere una questione Sì, ha perfettamente ragione però facciamo un passetto indietro tornando al 151 qui dobbiamo dividere quelle che sono le caratteristiche di protezione di cui ho necessità quindi se ho una obbligatorietà dal punto di vista legge mi devo rifare quelli che sono i riferimenti in legge potrebbero esserci addirittura dei progetti che ci obbligano non tanto alla tipologia di estintore che può andare bene per spegnere incendi dove può essere utilizzata anche normale acqua ma potrebbe in caso di un quadro elettrico causare danni decisamente superiori quindi ci sono estintori a polvere di un certo tipo in luoghi diversi ma mi rende obbligatorio anche il numero degli estintori perché io posso dire che mi serve un estintore da 5 kg ma posso avere la necessità di avere un estintore magari carrellato da 200 kg, da 500 kg Per un condominio questo? anche per un condominio di particolari dimensioni e particolari caratteristiche potrebbe essere necessario perfetto vediamo ad esempio un'autorimessa continueremo a parlare di estintori di legge 151 e delle altre domande che ci inviate così cortesamente dopo la pubblicità grazie e a dopo ed eccoci a questa seconda tranche di SOS Casa parliamo di antincendio parliamo di estintori e risponderemo alle vostre domande ma appunto si continuava con il dottor Vito Di Benedetto appunto a parlare di questioni di antincendio cosa? si, ci eravamo fermati prima della pubblicità sul discorso di grosse dimensioni degli estintori mi hanno detto che esiste un progetto di base e è stata fatta la richiesta ma perché? 200 kg di estintore nell'ambito di un semplice condominio beh, condominio può essere di dimensioni molto variabili all'interno di un condominio posso avere un'autorimessa posso avere un'autorimessa dove il parcamento autoveicoli è ben superiore alle 50 unità che era la vecchia legge oggi la nuova legge non parla più di numero di autoveicoli dal quale scatturisce il cosiddetto carico di fuoco quindi una necessità di corretta reazione per l'evacuazione dei fumi in automatico un condominio per ogni scala almeno un estintore e giù un estintore gigantesco carrellato nel caso o più estintori di dimensioni più accettabili più trasportabili questo però ancora non è obbligatorio è obbligatorio nell'autorimessa ma non nel vanno scale e questo è un qualcosa che ci dispiace un attimino perché in un vanno scale sì, esteticamente non sarà molto valido però invece di averlo in garage come diceva prima il signore se ce l'aveva in vanno scale magari riusciva a spendere ancora più velocemente l'incendio ecco insomma io farei una digressione con alcune domande appunto che ci fanno i nostri telespettatori dice buongiorno il signore appunto si firma F puntato abito in un condominio di 12 unità il mio salotto e il relativo terrazzo sono esposti a sud ottimo dice ma caldino così ha deciso di mettere delle veneziane esterne sul terrazzo che mi riparino dal sole estivo ci ho speso pure un bel po' sono carine dice appunto il signore F rosse fiammanti e non disturbano nessuno dice però ieri ho ricevuto una telefonata dell'amministratore che mi intimava dice di toglierle perché alcuni condomini si erano lamentati dice che non ho il diritto di mettere delle tapparelle nella mia terrazza dice che se c'è una cosa che c'è una cosa come pardon la coerenza estetica dell'edificio io sono in affitto pago pure pochino ma l'edificio è un palazzone anni 70 ben lontano dall'idea di Villa Palladiana dice il nostro signore F proprio non capisco si capita spesso beh intanto mi permetto di difendere un po' il collega probabilmente l'intimazione è qualcosa che è stata percepita dalla condomina o dall'inquilina perché l'amministratore di solito non fa telefonate quindi già la telefonata è un qualcosa in più per dire ascolta stai facendo qualcosa che non è corretto fai un piacere toglila può essere presa come intimazione ma è già un fattore di gestione del rapporto personale io posso mandare la diffida e la mando con raccomandata ricevuta in ritorno perché non la può mettere la tapparella perché esiste un'estetica condominiale ma esiste un'assemblea esistono delle proprietà e queste decisioni vanno presi in assemblea le quali stabiliranno il colore la forma il modello della protezione contro il sole contro il vento contro il freddo basta che non siano costruzioni fisse che quindi hanno bisogno di delibere dal punto di vista del comune oltre che la delibera dell'assemblea e una volta fatto questo la condomina o l'inquilina deve rispettarla tutti devono attenersi certo non è obbligatorio installare quello che la delibera assembleare ha previsto nel caso lo facessi devo rispettarne la forma il colore eccetera quindi purtroppo mi dispiace per il nostro ascoltatore ma deve levarle ok ho una domanda io a questo punto personalmente anche io abito in condominio quindi ogni tanto insomma mi pongo delle questioni da me invece per esempio ciascuno mette sulla sua terrazza quello che vuole decisamente io ho sempre trovato la cosa molto serena non mi sono neanche mai posto particolarmente la questione e nessuno ha mai detto nulla quindi non è obbligatorio avere tutti lo stesso genere di diciamo protezioni contro il sole o cose di questo genere no? no non è assolutamente obbligatorio è una delibera assembleare per assurdo mi viene in mente e quindi fa fede sempre la delibera assembleare è legge del condominio usi e costumi che devono essere accettati da tutte le proprietà faccio una mi è venuta in mente una cosa simpatica per modo di dire se non ricordo male a Milano qualcosa del genere è successo diversi anni fa siamo sono finiti direttamente in tribunale perché poi purtroppo si inizia a litigare tra condominio proprietari tirano in mezzo l'amministratore l'amministratore deve far rispettare il regolamento può difidarli ma se non c'è il regolamento ormai Tony e Menego hanno già installato gliele faccio levare hanno speso soldi quindi va gestito anche da questo punto di vista ma comunque in quel caso sono finiti in tribunale il tribunale ha incaricato un ctu un architetto il quale ha valutato nel caso specifico era uno stabile da una cinquantina di unità dove erano riuscite a installare più o meno cinquanta tende una diversa dall'altra l'architetto ha detto che pur essendo assurdo lui giudicava molto variante e molto gradevole la vista dell'insieme del condominio con tutte queste tende diverse una dall'altro e quindi si sono tenuti ognuno le proprie tende il gusto per quanto dell'esperto fa fede anche a livello legale esatto che curiosità strana però siamo andati a finire in tribunale quindi è meglio chiedere prima all'amministratore se esiste una delibera che ha previsto la tenda altrimenti si può ovviare momentaneamente con qualche incontro rapido tra condomini e poi però sempre a livello di delibere d'accordo direi sotto con un'altra domanda questa molto più precisa dice molto più precisa molto più stringata se non altro ho venduto il mio appartamento e nel condominio erano stati deliberati i lavori di manutenzione straordinaria devo pagare io la persona a cui ho venduto veloce veloce velocemente allora velocissimo deve pagare chi ha venduto se la delibera dei lavori è stata fatta prima che lui effettuasse l'atto di rogito anche se il lavoro viene fatto dopo ok e quindi anche se ci fossero cioè ci dovrebbero essere degli accordi tra le parti scritti e depositati allora allungando il discorso sì nel momento in cui io vendo il mio alloggio dove so esistere una delibera per lavori di manutenzione di un certo tipo posso anche prevedere perché esisterà un preventivo se abbiamo fatto una delibera sapremo già indicativamente quant'è il costo per unità il costo che verrebbe al mio carico è di 1000 euro beh posso scontare di 1000 euro il momento della vendita quindi il mio appartamento lo sconterò di questi 1000 euro lo prevedo scritto in atto di rogito in modo che ne rimanga traccia chi acquista non ha poi diritto di contestare a meno che da 1000 non diventino 5000 però a quel punto è successo qualcosa di un po' più grave perfetto altra domanda il mio palazzo è composto da 20 unità volevo sapere se è obbligatorio avere un amministratore e una polizza condominiale 1129 codice civile dopo 4 diverse unità noi abbiamo bisogno dell'amministratore per legge quindi oltre ad essere una necessità è un obbligo è anche un obbligo a proposito della questione della necessità perché sostanzialmente è una necessità avere un amministratore con 20 condomini e non con 4 una domanda molto semplice perché con 4 è molto più semplice gestire tutto l'insieme delle cose attenzione forse va chiarita anche un'altra cosa sia uno stabile di 10 unità ma in realtà ho solamente due proprietari non ho bisogno dell'amministratore l'amministratore diventa obbligatorio quando facciamo il caso proprio di un costruttore condominio nuovo 10 unità sono io il proprietario decido per 10 anni di affittare questi appartamenti quindi i proprietari sono uno non esiste nessun obbligo di legge vendo anzi addirittura non esiste il condominio come codice fiscale volendo perché da quel punto di vista finché non vendo sono io il responsabile in tutti i sensi nel momento in cui io vendo il primo amministratore unico del coso immobile al momento in cui io vendo il primo appartamento incominciamo adesso in due a dover decidere come gestire le cose io ho 9 appartamenti lei ne ha uno ma siamo già in due alla terza quarta vendita è obbligatorio mettere l'amministratore che può essere un amministratore interno certo le faccio un'altra domanda a proposito di questo poniamo proprio la questione dei 10 appartamenti 9 di un proprietario uno di un altro che si è comprato appunto dal costruttore una certa determinata cosa poniamo diciamo la questione di 5 5 che è più facile quindi c'è anche un amministratore diciamo 5 appartamenti cioè 12 appartamenti di cui 7 di un unico proprietario e 5 degli altri condomini si vota in assemblea condominiale per millesimo o per diciamo testa allora esiste un doppio quorum al di là della validità quorum costitutiva dell'assemblea tutte le varie votazioni vanno a doppio cioè per numero di teste certo e per numero per somma dei millesimi non capisco vuole spiegarmi meglio io lo spiego meglio allora nel momento in cui io ho l'assemblea che è valida e devo fare una delibera dove è previsto un terzo dei millesimi io devo raggiungere un terzo dei millesimi che sono a favore delle persone che sono lì presenti e del condominio poi abbiamo bene proposta la diciamo nomina dell'amministratore che è la classica sì ma una cosa più onoreosa volevo fare tipo la ristrutturazione del tetto ok utilizziamo 4 condomini 5 condomini su appunto sono a favore e uno che ha 7 appartamenti non vuole non vuole farlo allora esiste il doppio quorum per questo i 5 proprietari hanno una sommatoria di millesimi che potrebbe essere anche superiore ma comunque non raggiungiamo magari la sommatoria che è due terzi dei millemillesimi e quindi in questo caso la delibera va presa in un altro modo va riconfermata va ridiscussa finché si arriva a una certa validità la stessa cosa può essere anche per altre cose fin tanto che si va a finire sempre in brutti posti cioè i tribunali speriamo di evitarli insomma suggeriamo anche appunto ai nostri telespettatori di evitare appunto liti che poi finiscono in tribunale che tendenzialmente sono piuttosto costose se non altro insomma ad ogni modo per questa questa settimana l'approfondimento di S.S.Casa è terminato ringraziamo il dottor Vito Di Benedetto e grazie a voi grazie a tutti